Ben tornati al nostro appuntamento su Rete8. Tutti i cittadini conoscono l'importanza dell'estratto conto e sanno che l'estratto conto è collegata a qualunque tipo di regia di prestazione dell'istituto o almeno la maggior parte delle prestazioni. L'istituto ha rilasciato una nuova funzionalità per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricoli dal primo agosto di quest'anno. Questo particolare nuovo servizio lo vediamo nelle slide. La consultazione infoprevidenziali è un'applicazione che è disponibile anche sul Ips mobile, quindi direttamente sul cellulare, che consente di scaricare in formato pds, opse o excel una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quelle dell'estratto conto individuale. Quindi controllare immediatamente la propria posizione a partire dal gennaio 2010. Cosa si può vedere? Si può vedere l'inquadramento aziendale, ma anche quelli che sono dei conguagli, la tipologia del rapporto di lavoro, ad esempio l'assegno endocchio familiare, eventuali maternità, malattie o eventi di accredito figurativo. La documentazione non ha valore certificativo perché le informazioni vengono viste immediatamente dal cittadino, ma per entrare nel stretto conto hanno bisogno di essere elaborate dall'istituto in seguito a una serie di controlli. Come funziona materialmente? Accedendo al sito o all'Inps mobile con il codice PIN oppure l'identità SPID o carta nazionale di servizi, si può entrare nel servizio che viene descritto attentamente e poi ci porta a questa maschera che vediamo nella prossima slide. Inserendo il periodo in un arco temporale di 18 mesi relativo al proprio codice fiscale, si può ottenere una serie di informazioni come quelle che vediamo. Quindi, lavoratore autonomo o lavoratore dipendente, quella che è la contribuzione, quelle che sono invece gli eventuali conguagli e la descrizione dell'azienda. Quindi si può verificare il contratto inquadramento nel settore da parte dell'azienda, ma si possono verificare tutte le informazioni che sono quelle trasmesse. Solo verifica, il sistema ci dà una potenzialità in più, che vediamo nella prossima slide. Cioè, oltre a fare un check immediato, dà la possibilità anche di inviare direttamente dall'applicazione segnalazioni di anomalie alla sede Inps competente. Quindi va a segnalare quella che può essere un non corretto inquadramento o una contribuzione differente rispetto all'imponibile che si prende in busta paga o tutte quelle che sono informazioni che possono poi andare a modificare i diritti che aspettano i lavoratori. È molto importante verificare le informazioni sull'estratto conto. Molto spesso abbiamo cittadini che si rivolgono alle nostre sedi in prossimità del pensionamento verificando che hanno dei buchi contributivi. Buchi contributivi che possono essere dovuti a motivazioni più disparate, da errori di trasmissione da parte dell'azienda, fino a episodi di lavoro nero di cui il lavoratore non era a conoscenza, ritenendo di essere correttamente inquadrato. Questa possibilità che rilasciamo con questa applicazione dà la possibilità di controllare il proprio estratto conto e verificare tutte quelle informazioni che sono fondamentali per i diritti dei lavoratori. Vi ringrazio e arrivederci alla prossima puntata.